Furto l'accusa che è costata la denuncia a piede libera a due fratelli canicattinesi, uno di 36 anni e l'altro di 33, colti con le mani nel sacco mentre rubavano dei materiali all'interno di un cantiere edile a Canicattì. Secondo la ricostruzione dei poliziotti del commissariato canicattinese, i due si erano introdotti in un cantiere di via San Pio da Pietrelcina, dove si stanno realizzando due edifici bifamiliari e hanno cercato di portare via materiali e attrezzature quali puntelli metallici e altri materiali. I due avevano già caricato buona parte dell'arre furtiva in un Alfa Romeo 159 Station Wagon, quando sono stati sorpresi dai poliziotti delle volanti del commissariato di Canicattì, i quali stavano pattugliando la zona nel corso di un controllo. Subito i due sono stati bloccati e gli investigatori hanno voluto vederci chiaro, perquisendo il veicolo e scoprendo l'attrezzatura. Una volta capito come stavano le cose, sono scattati gli accertamenti del caso. Attrezzi e materiali sono stati sequestrati e restituiti al titolare dell'azienda Edile. Anche la vettura utilizzata dai due fratelli è stata posta sotto sequestro, in quanto è risultata priva di assicurazione.